L'afflusso massiccio previsto per la visita del Papa a Palermo il 15 settembre ha spinto la Polizia Municipale a fare un appello alla cittadinanza affinché si faccia un uso limitato delle auto, privilegiando i mezzi pubblici o i veicoli a due ruote. Per l'occasione saranno impegnati su strada 900 ufficiali e agenti del Corpo Municipale per disciplinare il traffico e per la necessaria assistenza ai utenti. Il programma di giorno 15 prevede alle 11 e un quarto la celebrazione eucaristica al Foro Italico, alle 13 e 30 il riposo alla missione di speranza e carità, alle 15 la visita in forma privata alla parrocchia San Gaetano nel quartiere Brancaccio e alla casa del Beato Pino Puglisi. Si prosegue alle 15 e 30 con l'incontro in cattedrale con il clero, i religiosi e i seminaristi, mentre alle 17 è previsto l'abbraccio con i giovani in piazza Politeama. È stato predisposto un piano di mobilità straordinario in considerazione degli spostamenti e delle misure di sicurezza adottate dalle autorità competenti, che modificherà la circolare veicolare. Il corteo papale attraverserà infatti parte della città in prossimità del Foro Italico e del centro padre nostro di Brancaccio. Il percorso attraversato dal corteo papale sarà libero da scarrabili e cassoni utilizzati in edilizia per la raccolta di sfabricidi, libero inoltre proveniente da ristrutturazioni a partire dalla mezzanotte di mercoledì 12 settembre e dalla mezzanotte di giovedì 13, dove entreranno in vigore i divieti di sosta nelle vie interessate al percorso. Il transito veicolare sarà interdetto a partire dalle 6 di sabato 15 settembre. Al fine di ridurre al massimo il flusso di autovetture verso il centro, che sarà per lo più interdetto al transito, la Polizia Municipale raccomanda di lasciare le autovetture private nelle aree destinate senza avvicinarsi al centro città. E quindi zona forum, aria antistante stazione Docella, da cui sarà possibile spostarsi verso il centro con il tram, con navette e con i treni che faranno capolinea a Piazza Giulio Cesare e le cui corse per l'occasione saranno aumentate. Poi parcheggio via Basile, da cui sarà possibile spostarsi con navette. Parcheggio via Dei Emiri, invece, da cui sarà possibile spostarsi con navette. Lamati, inoltre, emetterà, solo per l'evento, un biglietto valido per l'intera giornata da 1,40 euro. Considerato che dal 9 settembre sarà riattivata la linea ferroviaria Punta Raisi-Palermo, sarà possibile arrivare a Piazza Giulio Cesare anche dalle stazioni San Lorenzo, Francia, Lolli e Notarbartolo. I pullman saranno concentrati in zona forum in via Basile, all'interno proprio del parcheggio Basile.